Ciao a tutti, buon venerdì d'Angelo, vi ricordo che il gioco è inventato in menore ipocasale, dipendenza patologica, video dimostrativi per un pubblico maggiorenne. Ciao a tutti, vi ritrovate nel canale, grazie a tutti per i 15.000 iscritti, grazie di cuore a tutti veramente e sono contento per questo obiettivo, andiamo avanti così su slot svelate e veramente grazie ancora, io intanto faccio i saluti a tutti, saluto Marco Esoteric, Marco Esoteric, ciao Marco, Marzia Pilotto, ciao Marzia, Domenico da Matera, ciao Domenico, salutiamo sempre tutti, allora andiamo avanti con la Sanremo Games, quella nuova, ho cambiato il cinquantello, i soldi vanno sotto, vediamo un po' la Goblins Gold, ok, slot al 65% ovviamente, andiamo a bento 1, Goblins Gold, misteri doppio, vediamo un po', bellissimo, questa è una pagata al primo tiro, quindi propenso, dice molto probabile lo stallo, vediamo un po', potrebbe, diciamo, anche se dovesse mangiare lo stallo è vicino, vicino, speriamo che in questa partenza, e quindi se è così abbiamo una partita fortunata ancora, qui questa ha lo stallo, vediamo un po', se c'è a zera dovrebbe ripartire comunque dopo, una vita, subito a tre, vediamo, ok, perfetto, ci siamo ragazzi, questo è stallo matematico, come avete visto, una super vita addirittura, perfetto per i 15.000, quindi abbiamo inaugurato bene questo obiettivo, bellissima partita, fortunata direi, ci voleva, ci tagli spegne, ormai lo stallo è assicurato, abbiamo messo 4 euro se non sbaglio, ok, stallo raggiunto, come previsto, come previsto, ecco per i 15.000, per i 15.000, per i 15.000, per i 15.000. ovviamente non c'è zero più nuove sanremo games abbiamo presa bene sempre attenzione anche con il gioco se dovessi vincere come dico sempre per partiti appunto responsabile chi vuole sapere anche per il gioco online troverà un link sotto i miei video con un comparatore di siti legali con regolare licenza dm per partite responsabile sempre bene non giocare però attenzione è una funzione come prima hanno messo delle nuove funzioni ovviamente su queste nuove sanremo come vediamo ovviamente se ci tiene sullo stesso punteggio converrà poi scaricare non ci azzera più ovviamente bisogna fare attenzione al tempo dove scade queste chiare ma non possono mai azzerare questo altra funzione 20 euro sugli 80 siamo arrivati 168 159 77, abbassiamo un po' il bet, siamo sotto scadenza tempo, ci prendiamo questi, vediamo dove arriva, ok, gli 80, fino a 80, poi dopo vediamo se parte, ok, in cassa, TDS, vediamo se riparta, per quanto riguarda il TDS, ovviamente nel video precedente vi ho dimostrato tutto il funzionamento completo della slot, ovviamente io avrei utilizzato sempre il TDS nel bonus, che poi facendo vedere l'altra parte negativa della slot, giocando la bet 3, il TDS è saltato, è saltato il bonus, il TDS, ma questo per dimostrare a voi, ma qualcuno ancora non l'ha capito e non ha apprezzato il gesto, e mi dispiace per questo, perché io se ci rimetto dei soldi è per voi iscritti al canale, è per dimostrarvi il lato positivo della slot e il lato negativo della slot, per cui tante persone non lo capiscono. Il TDS si sa che è una tecnica dello scarico, che non è che io l'abbia inventata, però nessuno prima ve ne ha parlato e quindi nessuno ha messo in evidenza questa cosa del TDS, della tecnica dello scarico, per cui è ovvio, no? Che si può scaricare finché la slot non paga, ma chi ve? Nessuno ve l'ha detto prima e io ho cercato di evidenziare la cosa appunto dandogli un nome. Goblin Gov, per adesso nessuna altra partenza o segnale di ripartenza. vediamo adesso 20 euro, altro segnale positivo al primo tiro, quindi ci sarà probabilmente adesso un altro stallo, anche se dovesse azzerare, ma speriamo di no, è un segnale positivo, una vita, andiamo a 3, azzerati, ma continueremo la partita. Alle volte queste partenze superiori a 10 al primo tiro sono positive, a volte no, ci sono delle modifiche però... a questo punto io vedrei anche un altro gioco... allora vediamo un po'... vediamo quest'altro gioco Shiny Gems... ci ha dato il ventello come segnale, vediamo se... in questo caso allora può succedere che la slot, o riparte a breve, o se per caso la slot è anche con piccoli accumuli, può rimangiare tutto lo scarico e ripartire dopo. e se mangia più del dovuto farà due stalli dopo. iscrivetevi al canale sempre per essere aggiornati dei video e cliccate sulla campanellina per appunto avere la notifica. se volete potete mettere il like per sostenere il canale, fa sempre piacere. questo è a cascata ecco, non l'avevo visto questo gioco è a cascata. ovviamente sono nuove, non ho provato neanche io tutti i giochi. andiamo a bet 3. il bet non influisce, stallo sempre a 60 come quelle vecchie. ok, va bene. probabile stallo anche in questa partenza, vediamo. abbiamo subito una super vita da 30. ok, stallo raggiunto 60. qui si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Altra pagata da 11, direi che va bene, superiore a 10. Vediamo se tiene, non ha tenuto. Proveremo ancora 20. Ok, va bene. Perfetto, sessione fortunata. Perfetto. 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 Dovrebbe appunto ripartire perché c'erano quelle pagate superiori a 10. Perfetto. 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 Ancora segnale positivo anche adesso. Perfetto. 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 Bene, altro stallo raggiunto. Terzo stallo si parla già di bonus di solito, quindi super partita fortunata. Ci voleva dopo un lungo periodo di astinenza, di attesa, di perdita. Grazie. 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 Grazie a tutti. Siamo sui 60 e qualcosa, è arrivata. Come vediamo non c'è zero più e questo ormai è palese. Sessione di sessantello, ok. Niente amici, questo è quello che ci vuole dare, siamo quasi sotto scadenza tempo, arriviamo fino a 60. Se vuole salire ci dà una pagatella, se no li scarichiamo. E' un po' il TDS. Ok, TDS. Avete visto che più di quella cifra, quando vi fa, vi porta più volte su quella, vuol dire che è quella. Anche se non ci azzerava, però lo poteva scadere diciamo il tempo basso e quindi in quel caso poi è peggio. Vediamo se riparte con una decina d'euro. Bellissima comunque partita fortunata, direi, perché abbiamo inserito poco. E ci voleva effettivamente perché era qualche tempo che non si vedevano tre stalli. Vi ricordo per chi vuole vedere tutti i miei video può andare su Google e digitare slot svelate su Google e troverete tutta la lista dei miei video. Poi magari vedremo nuovi giochi anche di queste nuove Sarrim. Sono slot che già con tre stalli si può parlare di un piccolo bonus, ma ovviamente hanno anche bonus dai 4 ai 6, anche 800 euro. Però ovviamente sono casi rari, ecco perché è bene non provarci più di tanto perché quando la trovi positiva, ok, ma se la trovi negativa fanno molto male anche queste slot con lo stallo. Ci mettiamo gli ultimi, credo che abbiamo comunque guadagnato più di 200 euro perché in questo posto non ho il cambiamoneta a dir la verità. Però ho cambiato 50 euro, lì ci saranno più di 200 euro perché abbiamo fatto uno scarico da 100, uno da quasi 80, 180 e 60, 240. Meno 50 grossomodo quelli che ho messo, un 200 euro puliti li abbiamo presi. Per cui io vi saluto, spero che vi siete divertiti in questo video, ha sempre attenzione al gioco. Ci aggiorniamo poi per un prossimo video per domenica. Fate diciamo un buon fine settimana a tutti. Direi benissimo grazie ancora per i 15.000 e rimanete sempre con slot svelate. Ciao a tutti da Angelo, un abbraccio, grazie.